Musica Covid aumentano i contagi e arriva la nuova variante. 2000 casi in 24 ore e due morti ma meno ricoveri. Preocupa la variante portoghese del virus che ha colpito una 24enne infermiera della varina militare di Taranto. Punzi del Cotugno dice, contagiosità alta, ora prudenza. Napoli allerta baby gang, non bastano gli arresti dopo la sparatoria contro la polizia in viaforia. Conclusasi con l'arresto di tre ragazzini minorenni e di nuovo allarme, serve una rivoluzione culturale, non basta la repressione, dice il responsabile di Libera, Marino Di Palma. Patto Napoli-USA, Manfredi, ecco nuovi investimenti. Via il protocollo d'intesa tra Confindustria Campania, American Chamber alla presenza del presidente regionale degli industriali, tra i team del leader di Napoli, Gianotti Pecci, il sindaco Manfredi, la nostra città, un hub di relazioni internazionali. Avellino DJ e domiciliari spacciava con la famiglia, seguite dieci misure cautelari, smantellato una piazza di spaccio organizzata da un nucleo familiare nella zona di Rione Parco. I pusher utilizzavano al telefono un linguaggio in codice per smerciare cocaina e crack. Zess si accelera nel sagno, Marchiello sfida decisiva. L'assessore regionale alle attività produttive, oggi in provincia di Benevento, all'Imatola, confronto con Asi e commissario per rilanciare il programma previsto dalle zone economiche speciali, ma serve una svolta. Ruggi, medici in trincea, qui peggio del cardarelli, aumentati gli accessi in ospedale a Salerno e del caos, mancano persino le barelle, denunciano i sanitari, il sindacato intanto chiede lo sblocco delle assunzioni e l'utilizzo degli operatori USCA per colmare le carenze nei reparti. Buonasera, ben ritrovati con il TG News. In apertura di questa edizione del nostro telegiornale, lo avete appena sentito dai titoli, variante portoghese, c'è un primo caso a Napoli, una ragazza di 24 anni, e intanto aumenta di due punti il tasso di incidenza. Vediamo. Primo caso di variante portoghese individuato anche in Campania. Si tratta di una ragazza napoletana di 24 anni, vaccinata con tre dosi, infermiera in servizio alla scuola sotto ufficiali della Marina Militare di Taranto. Il campione è stato sequenziato nell'ospedale per le malattie infettive, il Cotugno. La giovane presentava febbre alta come sintomi, ma ora sta bene. L'Istituto Superiore di Sanità conferma si tratta della variante BA5, detta appunto portoghese. Una variante che presenta un alto grado di contagiosità, come spiega il direttore di infettivologia, Rodolfo Punzi. La variante portoghese, come tutte le varianti, nasce dalla replica del virus e dagli errori che il virus fa nella sua replicazione. E anche per quanto riguarda la variante portoghese, il comportamento che più è variato rispetto a quelle precedenti è il grado di contagiosità, nel senso che sembra ancora più contagiosa, sembra ancora più facile attaccare le cellule umane. Quindi questo è il dato più preoccupante. Per quanto riguarda l'aggressività clinica, quindi quando più da quadri clinici gravi, questo ancora non abbiamo i numeri per poterlo dire. Quindi dobbiamo aspettare per vedere i dati portoghesi, ma i primi dati non sembrano dirci che sia una variante più pericolosa. Intanto sono 1994 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 13.551 test effettuati per un indice di contagio pari al 14,71%, in rialzo di quasi due punti rispetto a ieri. E sale di nuovo il numero delle vittime, due ad Avellino di 61 e 75 anni, mentre nel Salernitano è deceduta una 75enne di Polla. Hanno tra i 14 e i 16 anni i giovani arrestati a Napoli per la rapina commessa in un supermercato di Parma, di Libera Campania, lanciano un appello. Non servono solo gli arresti, ma un radicale cambiamento culturale. Vediamo. Ancora una notte di violenza a Napoli. Tre giovani tentano una rapina in un supermercato nel centro, mentre scappano con lo scooter e la polizia riesce a raggiungerli. Uno dei ragazzini ha sparato contro gli agenti, che a loro volta hanno risposto al fuoco, colpendo uno dei pneumatici della moto. Il giovane alla guida ha perso il controllo e si è schiantato contro una macchina in sosta. Hanno comunque tentato di fuggire a piedi, ma poco dopo sono stati fermati e disarmati dalla polizia. I tre ragazzini, che hanno dai 14 ai 16 anni, sono stati tutti arrestati. Il titolare del supermercato ha raccontato che due ragazzini, di cui uno armato, erano entrati nel negozio e avevano tentato di rubare l'incasso. I tre avevano già rubato poco prima due cellulari e un portafoglio, recuperati poi dalla stessa polizia. Un altro episodio di violenza è avvenuto a Casavatore. Un ragazzino ha discusso con un altro di quattro anni più grande, ha infilato le dita in un tirapugni e lo ha colpito in pieno volto. Segnale che non bastano soltanto gli arresti, ma serve anche una pressione, un lavoro culturale, perché la violenza sta diventando un motore, una forma di prepotenza culturale che serve ad imporre relazioni, dinamiche di potere, di rapporti di forza, di prevaricazione. Noi bisogna sgombinare le ragioni culturali e sociali che portano i giovani, i minori, a compiere azioni violente, senza senso, terribili. In una città dove si spara ancora tanto, dove si uccide ancora tanto, dove le organizzazioni criminali fanno ancora i loro affari, bisogna in qualche modo cercare di intervenire sull'emergenza culturale ed educativa che c'è a Napoli e in tutta la campagna. È stato firmato al Napoli protocollo d'intesa tra Confindustria Campania, American Chamber, alla presenza del Presidente regionale degli industriali, Trettino, e del Presidente di Napoli, Giannotti Peci, Sindaco Manfredi. La nostra città deve essere un hub di relazioni internazionali. Un'iniziativa che cade nella logica dei rapporti sempre solidi e stretti che ci sono tra l'Italia e in generale gli Stati Uniti e in particolare la campagna e le imprese campagne e gli Stati Uniti d'America. Siglato a Napoli nel corso dell'incontro gli Stati Uniti e il Sud Italia, una storica amicizia proiettata nel futuro, il protocollo d'intesa tra American Chamber of Commerce in Italy e Confindustria Campania. La firma nella sede degli industriali di Napoli alla presenza dei vertici dell'associazione, con l'intervento da remoto del Sindaco Gaetano Manfredi che ha evidenziato il legame della città con gli Stati Uniti. Lo stiamo rafforzando su vari fronti. La nostra città, infatti, ha ribadito il primo cittadino, deve essere un hub di relazioni internazionali capaci di attrarre investimenti, flussi turistici e connessioni culturali. Si punta dunque a valorizzare e intensificare i rapporti tra Italia e Stati Uniti anche attraverso la realizzazione di workshop settoriali. È un evento che conferma quello che è un rapporto ormai ultrasecolare tra la nostra città, la Campania e il Mezzogiorno più in generale e gli Stati Uniti. E veniva ricordato quanto sia stato importante per il rilancio del Mezzogiorno e del Sud nel dopoguerra e l'uolo degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti d'America hanno un legame storico con il Sud Italia e proprio con la città di Napoli. Un'intesa che parte da Napoli ma rivolge attenzione a tutto il Mezzogiorno. Perché il Mezzogiorno è fondamentale per il sistema paese. L'intento nostro è quello di fare in modo di incentivare sempre di più le grandi aziende americane da poter investire sul nostro territorio. Sempre a Napoli, secondo giorno degli Stati Generali dell'ambiente, riflettori puntati sull'innovazione e le opportunità legate al riciclo dei materiali. La Campania migliora i propri dati sul fronte della raccolta differenziata. Oltre la metà degli scarti prodotti in regione viene riciclata. Risultati importanti che ci pongono come prima regione del Sud e in linea con le percentuali nazionali. Questo il commento di Fulvio Bonavitacola. Il Vice Presidente della regione ha partecipato al secondo giorno di incontri del Green Med Symposium. Gli Stati Generali dell'Ambiente è in corso alla stazione marittima di Napoli. Esperti e addetti ai lavori hanno tracciato un quadro incoraggiante sul fronte del recupero dei materiali. Ci sono margini di miglioramento in Campania ma in generale nel meridione del Paese. Noi stimiamo che possano essere intercettate e quindi salvate dalla discarica tra le 600 e le 800 mila tonnellate di carte e cartone che quindi potrebbero essere interamente riciclate nel nostro Paese. Nel mondo del riciclo della plastica la situazione è molto brillante in Italia siamo sicuramente uno dei Paesi più virtuosi d'Europa questo ci viene riconosciuto anche dagli altri Paesi membri noi oggi siamo direi col vecchio metodo di calcolo siamo quasi sopra il 60% di plastica riciclata. Nel pomeriggio è intervenuto nuovamente il Presidente della regione Vincenzo De Luca il Governatore è tornato sul tema dell'autonomia differenziata la bozza sulla quale si sta lavorando è un disastro e accentua i divari tra nord e sud faremo la guerra per cambiarla ha promesso De Luca che ha poi assicurato che entro due anni sarà definitivamente chiusa la vicenda ecoballe in Campania. Rapine manca questa mattina a Salerno dove un uomo armato di pistola è entrato nella filiale della Banca Campania Centro e si è fatto consegnare un plico con del Nenaro poi è fuggito sul caso indaga la polizia. Paura a Salerno Rapine intorno alle 9.30 nella filiale di Via Trento della Banca Campania Centro un uomo sui 35, 40 anni con i capelli lunghi forse una parrucca è entrato in banca armato di pistola da accertare se fosse vera facendosi consegnare un plico con del denaro per poi andare via a piedi bottino 100.000 euro erano presenti solo il direttore e due dipendenti uno dei quali è stato trasportato in ospedale dai volontari del 118 sotto shock sul posto la squadra mobile con la scientifica per le indagini e i rilievi un'azione fulminea come racconta la titolare della panetteria di fronte che non si è accorta di nulla non mi sono accorta di niente forse erano verso le 9, 9 e un quarto ho sentito arrivare la polizia o i carabinieri e mi hanno detto che c'era stata una rapina non so altro non abbiamo visto niente c'ero qua non mi sono accorta proprio di niente solo all'arrivo dei carabinieri ho detto che è successo è entrata una signora e mi ha detto che c'era stata questa rapina esasperati ormai i residenti purtroppo io ho dei soldini soldini in banca non so che fine faranno questo posso dire all'ordine del giorno ormai è una cosa la gente i soldi li vuole o che vince cascano dal cielo dal cielo non cade niente nemmeno la manna oppure ecco con la delinquenza con la criminalità cioè la gente non vuole lavorare cerca di lavoro ma prega il Dio di non trovarlo spaccio di droga ad Avellino la squadra mobile è arrestato dieci persone quattro in carcere e sei ai domiciliari e questo è il risultato dell'operazione antidroga portata a termine dagli uomini della squadra mobile della questura di Avellino nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla procura le dieci persone tutte residenti nel popoloso quartiere avellinese di Rione Parco sono accusate di detenzione spaccio di cocaina l'attività di indagine nasce dal sequestro di droga operato nei confronti di alcuni tossicodipendenti i quali avevano acquistato la droga dal principale indagato un volto già noto agli agenti un DJ abellinese il quale è stato trovato in possesso di 63 bustine di cocaina lui nonostante fosse agli arresti domiciliari continuava a gestire una florida attività di spaccio con l'aiuto dei suoi familiari e di altri soci utilizzati soprattutto per le consegne quando è stato arrestato a settembre scorso e condotto in carcere perché trovato in possesso di altre 72 bustine di coca ha continuato a spacciare grazie alla sorella e al fidanzato di quest'ultima che sono stati a loro volta arrestati oggi gli agenti guidati dal dirigente Gianluca Auriglia sono riusciti a ricostruire le tecniche utilizzate dagli indagati per lo spaccio in particolare utilizzavano un linguaggio in codice per differenziare la cocaina dal crack prosciutto crudo e prosciutto cotto sono state eseguite inoltre numerose perquisizioni e sequestri di droga lavoro, formazione, zesse attività produttive temi affrontati in Essagno questa mattina dall'assessore regionale Antonio Marchiello giovani regione e comuni devono fare rete per promuovere opportunità di lavoro e sviluppo e quanto emerso dall'incontro di oggi a Limatola tra l'assessore regionale a lavoro e attività produttive Antonio Marchiello il capo staff Antonio Lepore e il sindaco di Limatola Domenico Parisio occasione per incontrare giovani imprenditori e tracciare le linee guida per il rilancio al centro della discussione anche le zone zesse e la necessità di fare rete per consentire che al più presto partano individuare anche zone da recuperare che ne so ci sono zone dove ci sono ampi parcheggi che è inutile che teniamo nelle aree zesse quindi vengono eliminati e verranno riutilizzati noi abbiamo dei vincoli territoriali come quadratura quindi il commissario a questo compito io mi sono sentito con i presidenti delle aree di sviluppo industriale e ho chiesto loro la cortesia di collaborare perché loro sono per l'80% i conoscitori di tutte le aree zesse quindi sicuramente possono dare un ampio contributo su questa attività presente a Limatola Luigi Barone presidente del consorzio ASI di Benevento che ha rimarcato l'importanza di inglobare Limatola nelle zone economiche speciali la zesse a Limatola la regione e il commissario debbano lavorare per assegnarla perché comunque in passato Limatola ha avuto un torto per l'area di crisi complessa e quindi oggi è giusto che quel torto venga convenzato con la zesse poi è una delle aree più vicine alla fascia all'area metropolitana di Caserta e Napoli Andiamo ora a Salerno complice il boom turistico sono aumentati gli accessi in ospedale il sindacato chiede lo sblocco delle assunzioni e di utilizzare i sanitari dell'USCA per colmare le carenze nei reparti sentiamo A Salerno la situazione sanitaria è al collasso tra carenza di personale e boom di accessi in ospedale e la denuncia che arriva dalla funzione pubblica CGL i timori sono soprattutto per l'aumento dei ricoveri a ruggi la struttura è andata in affanno e sono tornate le file di ambulanze abbiamo difficoltà a sbarellare le persone dicevo in conferenza stampa che potremmo essere addirittura peggio del cardarelli visto che loro le barelle ce l'hanno noi non le abbiamo ma non è un problema di struttura da solo del ruggi il ruggi è diventato l'unica stampella della sanità provinciale è necessario che si affronti il problema perché i problemi vanno conosciuti e gestiti altrimenti con questo incremento anonolo che abbiamo ricevuto negli ultimi sette giorni e con l'incremento che fisiologicamente c'è durante il periodo estivo perché le scuole chiuse perché siamo una città turistica perché siamo stretti da due costiere il problema diventerà davvero insormontabile e a quel punto sarà troppo tardi non solo l'ospedale cittadino più in generale a preoccupare è la carenza di personale che mette a rischio tante strutture sanitarie della provincia di Salerno anche per questo il sindacato ha avanzato una serie di proposte per far fronte all'emergenza noi abbiamo fatto una proposta non solo l'attivazione delle procedure concorsuali che l'ASA ha messo in campo che ovviamente sono rallentate da tutta la burocrazia che c'è perché anche per nominare un membro di commissione regionale ci vuole oltre un mese ma ovviamente abbiamo la scadenza dei contratti dei medici dell'USCA al 30 giugno e quindi utilizzare quei medici ove loro lo vorranno partecipando alle manifestazioni di interesse per andare a integrare ovviamente le carenze di personale sul territorio aumenti IRPEF ad Avellino protesta in comune durante la seduta di approvazione del bilancio tasse l'amministrazione festa varai aumenti IRPEF l'opposizione si ribella e oggi in consiglio comunale durante la seduta dedicata all'approvazione del bilancio è andato in scena il sit-in a cui hanno preso parte varie associazioni guidato dal consigliere di minoranza Francesco Iandolo si tenta di riconquistare risorse attraverso l'aumento della liquida IRPEF che così come dalle prossime disposizioni del governo rischia di essere una tassa pesante per i cittadini anche per i cedi più deboli che invece fino ad oggi erano esentati visto che il governo prevede l'eliminazione delle soglie di esenzione che oggi erano a 15.000 che il comune di Avellino ha previsto a 20.000 annui si porta dallo 08 all'1 per 1000 questo significa che oggettivamente tutti saranno chiamati a pagare questo 1 per 1000 in base al loro reddito che quindi per quanto possa sembrare poco a chi ha dei buoni redditi invece per famiglie in difficoltà può rappresentare comunque un balzello pesante intanto proprio sul bilancio l'opposizione va all'attacco sui conti che non tornano un piano di recupero debito che non convince loro non lo vogliono ammettere ma anzi trovano a giustificare in modo edulcorato il patto che hanno fatto col governo che in realtà di fatto sospende per due anni il giudizio della corte dei conti sul piano di riequilibrio stesso adesso a seguito della mia pregiudiziale hanno dovuto ammettere che circa 5 milioni di debiti fuori bilancio non sono rientrati nel piano di riequilibrio rispetto a questi incrementi dove hanno fallito sui piani vendita che volevano fare in questo triennio dove alla fine sono state pochi milioni di euro rispetto ai 40 ai 50 che loro preventivavano emergenza abitativa oggi a Benevento il confronto promosso dai sindacati con l'assessore all'urbanistica Molli Chiuso lo vediamo l'emergenza abitativa al centro del confronto promosso a Benevento dalla Cisle Irpini a Sagno e dalla Sicet con l'assessore all'urbanistica Molli Chiuso le di segretari Fernando Vecchione e Franco Relmi questa mattina all'incontro nella sede dell'associazione Antea a San Rione Pacevecchia attenzione rivolta alle opportunità derivanti dal PNRR ma anche alle difficoltà ancora esistenti a partire dal rischio sfratti dal primo di giugno il ministero ha messo in bilancio 100 milioni di euro per gli inquilini e i privati per sfratti però oltre a questi nella finanziaria della legge del bilancio 2022 sono finanziati ulteriori 230 milioni questo basta sicuramente penso di no ma dobbiamo ringraziare anche il comune di Benevento che per coloro che hanno subito degli sfratti per coloro che faranno delle domande entro il 30 di giugno c'è un contributo da parte del comune di euro 500 a ribadire l'impegno del comune l'esponente della giunta Mastella ricordando anzitutto il finanziamento ottenuto da Palazzo Mosti per gli alloggi ERP come primo bando del PNRR abbiamo avuto ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro per la riqualificazione degli alloggi ERP di Via Nuzzolo così come abbiamo partecipato anche ad altri bandi rispetto alla costituzione degli alloggi rotativi relativamente agli immobili di Alex Scuola San Modesto e Ex Scuola Sannio ovviamente siamo molto attenti alla questione anche che oggi stiamo affrontando come il completamento dei lavori degli alloggi a Capodimonte per l'assegnazione quanto prima degli alloggi stessi trasmettere i valori della legalità non solo attraverso convegne e dibattiti ma anche grazie alla cucina è il messaggio che lo chef Filippo Cogliando ha rivolto ai ragazzi del Cilento nel corso dell'iniziativa organizzata ad Agropoli un percorso tra identità locale eccellenza non gastronomica e cultura della legalità nel Cilento con un protagonista d'eccezione lo chef Filippo Cogliandro ambasciatore calabrese nel mondo della lotta al Racket a partecipare al progetto gli studenti delle scuole superiori del territorio per me è stata un'esperienza straordinaria principalmente scoprire i prodotti di questa terra e divulgarli nel miglior modo possibile attraverso il contatto con i ragazzi e soprattutto dando un senso di legalità un progetto che prevede la valorizzazione prima delle persone e poi dell'esperienza un tour che è partito nelle scuole e continuato nelle aziende per poi arrivare in cucina lo scopo del progetto denominato scuola di comunità è stato raccontato nell'ambito di un'iniziativa svolta sia da Agropoli presso il castello Angioina Ragonese organizzata dalla Proloco Sviluppa Agropoli che ha visto protagonista anche l'associazione SOS Antiracchetti Usura far conoscere quelli che sono i prodotti del territorio e dare anche una valenza e importanza sull'antifrode e su quelli che sono gli attacchi possibili alle aziende Il percorso tracciato è partito dalla conoscenza delle proprie radici come ha raccontato ai nostri microfoni anche il presidente della commissione area interna della regione Campania Michele Camarano Noi abbiamo degli ottimi prodotti ce ne vantiamo però vanno tracciati vanno in qualche modo promossi perché anche di questo possiamo fare non solo promozione enogastronomica ma anche promozione del nostro territorio Dal Cilento torniamo in Irpini ad Avellino bike sharing ferma tra bici rubate e poca cultura due ruote vediamo Resta una chimera il progetto di bike sharing ad Avellino la mobilità sostenibile ferma al palo come queste biciclette parcheggiate a via dei concili poche perché a quanto pare qualcuna è stata anche rubata si è mosso anche Luca Abete l'inviato di striscia alla notizia che ha chiesto l'UMI dal sindaco Festa la verità è che di biciclette si è parlato solo quando esplose il caso della pista ciclabile a Via L'Italia poi tutto è finito nel dimenticatoio c'è bisogno di ripartire da due concetti primo educazione formazione e il secondo concetto è buone pratiche altrimenti finiremo soltanto per rimpiangere il fatto che magari le biciclette che vediamo qui a via dei concili vengono abbandonate rubate e di fatto non si crea una cultura non possiamo diventare come la Germania da un giorno all'altro ma possiamo intanto decidere se vogliamo assomigliare a certi contesti a certi paesi come se non bastasse a luglio partirà la metro leggera ma la ZTL al centro storico pone qualche problema di circolazione tra Corso Umberto e via Sant'Antonio Abate e con ogni probabilità l'amministrazione sarà costretta a modificare il percorso della filovia per Leonardo Festa si procede a tentativi senza un'idea strutturata capire in che modo il comune immagina che possa essere inserita all'interno di un progetto integrato di mobilità sostenibile o l'impressione che si stia procedendo un po' per tentativi ed errori e questa cosa non rincuora strade allagate Corso Garibaldi trasformato in un torrente al pari di altre zone di Benevento a causa del maltempo ad estare maggiori preoccupazioni però è stata la caduta di calcinacci dinanzi all'ingresso della scuola per l'infanzia dell'istituto comprensivo Pascoli di Benevento per fortuna il distacco dell'intonaco c'è stato pochi minuti dopo la fine dell'ingresso a scuola lavoro per i vigili del fuoco che hanno transennato l'aria ed effettuato una verifica con pieri impegnati in numerosi centri del sagno sempre a causa di allagamenti e piccoli smottamenti fango e detriti che si sono riversati lungo le arterie Al Museo Real Bosco di Capodimonte alvio una mostra su Battistello Caracciolo in Maggiore dei Caravaggeschi Meridionali Al Museo Real Bosco di Capodimonte fino al 2 ottobre si potrà visitare una grande mostra monografica su Battistello Caracciolo artista nato a Napoli nel 1578 il maggiore dei Caravaggeschi Meridionali oltre 80 opere l'esposizione nasce dall'idea del direttore del museo Sylvain Bellegé un avvicinamento molto particolare della scultura alla pittura scultura coeva sensibilità che esce di questo confronto che fa capire senza spiegazione un momento della sensibilità napoletana nella storia l'esposizione a cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello è realizzata con la collaborazione di Mario Epifani direttore del Palazzo Reale di Napoli luogo che insieme alla Certose al Museo di San Martino vedrà la presenza di opere di Battistello creato anche un unico biglietto a 20 euro abbiamo accolto con entusiasmo l'invito del direttore di Capodimonte perché così si traduce in qualcosa di operativo in un'offerta l'idea della rete e poi anche perché questo ci ha consentito di indagare un po' il palazzo perché noi in questo modo abbiamo puntato l'attenzione in questa sala affrescata da Battistello sulla volta dove sono dipinte le storie del primo vicere spagnolo di Napoli Gonzalo de Cordova una sinergia che ha coinvolto direttrice regionale Musei Campania abbiamo reso più visibili e raccontati in maniera più chiara all'interno di una narrazione che parte proprio dalla mostra di Capodimonte i luoghi nei quali sono conservate le opere e gli affreschi e non soltanto gli affreschi di Battistello e in chiusura vi ricordo che potete trovare tutte le notizie del telegiornale in continuo aggiornamento con ulteriori approfondimenti dalle cinque province della Campania collegandovi sul sito web al sito internet 8pagine punto it ed era questa la nostra ultima notizia questa edizione del telegiornale termina qui ora ci sono le previsioni meteo a voi tutti grazie per averci seguito a voi Grazie a tutti. Grazie a tutti.